Ciao e benvenuti ai Vini del Cerro, io sono Simone e oggi scopriamo insieme il Rosso 245, il Raboso di Cantine del Cerro. Il nostro Raboso si ottene dalle uve omonime del Veneto, quindi le uve Raboso, vinificate l'anno precedente, cioè questo è un vino di pronta beva, quindi si beve, in questo caso stiamo ancora usando il 2021, ma verso gennaio si incomincerà già con il 2022, quindi abbiamo un Raboso molto giovane. Prima di tutto poi andiamo a degustarlo. Tappo Corona, che è uno dei marchi di fabbrica di Cantine del Cerro che sigilla perfettamente il contenuto. Essendo un vino giovane non è necessario che faccia microossigenazione, anche perché tra l'altro imbottigliandolo di continuo non rimane troppo chiusa la bottiglia. Abbiamo un colore di un rosso intenso con i riflessi anche loro proprio di un rosso bello acceso, proprio perché è un vino ancora giovane. Il profumo è moderato con note di frutti rossi, ricorda un po' il lampone e anche una sottile nota di viola. Che sapore? Ritroviamo ancora dei frutti rossi, un po' di mora e di lampone. Questo sapore che poi rimane in bocca e resta molto pieno senza però andare esageratamente nel dolce, proprio un sapore di frutta. Questo è un vino che non ha una gradazione particolarmente intensa e gli si abbina molto bene anche per questa punta di leggera proprio frutta leggermente quasi acerba ma proprio di sottobosco. Si abbina molto bene con una matriciana che quindi ritroviamo un sapore un po' morbido del pomodoro ma anche quello un pochino saporito della pancetta oppure anche con degli arrosti magari non necessitamente forti. Coniglio ma potrebbe anche andare bene con un arrosto di maiale. Il vino raboso tra l'altro è uno dei vini più antichi. Pensate che il vitigno proprio è diretto discendente di uno dei vitigni che era già presente in Italia nel nord est perché appunto è la regione del Veneto ancora prima che arrivassero i romani. Successivamente è un vitigno comunque che mantiene una sua storia perché durante il periodo veneziano è il vino principe che viene esportato dalla Repubblica di Venezia molto spesso verso l'Oriente ma anche è stato addirittura trovato fino in Inghilterra. Questo perché è un vino che per le sue caratteristiche si conserva molto bene avendo una buona struttura e quella punta di un po' di acidità e dei tannini abbastanza resistenti lo rendevano un vino che si conservava molto bene nei viaggi infatti era proprio chiamato come vino da viaggio. La fortuna del raboso dura per molto tempo fino al secondo dopoguerra quando poi l'introduzione dei vitigni internazionali come Merlot e Cavernes Sauvignon lo vedono via via che viene sostituito appunto da questi vini qua. Ma negli ultimi periodi, intorno agli anni 2000, si sta ricominciando a introdurre e direi con ottimi risultati anche se è un vitigno abbastanza difficile da coltivare perché è il primo a germogliare quindi è particolarmente esposto alle gelati primaverili anche se vedi adesso non è esattamente uno dei periodi in cui si verificano di più ma poi anche l'ultimo a essere raccolto tutto con una vendemmia manuale perché ha una caratteristica metodo di coltivazione che è detto il bellusera e quindi può essere soltanto raccolto a mano. Il suo nome molto probabilmente deriva dal torrente omonimo quindi forse era lì una delle zone nel quale è stato coltivato le prime volte che era il torrente raboso che è uno degli affluenti del Piave ma potrebbe essere legato anche alla parola rabbioso che identifica molto bene il carattere irruento e difficile da domare di questo vino che molto spesso i veniti dicono essere dolce amaro un po' come la vita. Ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!